Pronto? Sono Roberto! Ciao ragazzi! Ciao compagni di Radio Popolare! Sono Roberto, come state? Roberto ha sbagliato radio, Roberto ha sbagliato radio, noi siamo Crystal Radio. Come è stato Radio? No, compagni dai campi e dalle officine di Radio Popolare! No, 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 ha sbagliato numero, non so, vuole richiamare, ha un messaggio d'amore per qualcuno? Allora, che radio è questa? Scusa, compagno! Crystal Radio, ha un messaggio d'amore! Grandissimi, compagni di Crystal Radio, noi sì che siete i compagni del domani, i compagni della rivoluzione! Allora, vi invito a tutti, compagni di Crystal Radio, oggi, alle ore 9.15, in Largo Cairoli, per il presidio di oggi! Roberto, aspetti, noi l'abbiamo, in realtà lei ci ha chiamato per la rubrica della posta del cuore, però vabbè, facciamo uno strappa alla regola a sto giro. Allora, si identifichi almeno, Roberto di? Con chi stiamo parlando? Roberto, del sindacato proletario dei lavoratori precari della scuola! Ok, 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 Roberto, allora, vabbè, facciamo uno strappa alla regola, scusateci, ascoltatori, sentiamo cosa vuole dirci Roberto! Però, non faccia sempre che parla solo lei, perché lei mi vuole censurare, perché lei è d'accordo sui poteri che non vogliono che noi, lavoratori proletari della scuola, abbiamo la voce, tutti qua! No, no, mi lasci parlare! Non sto parlando, non sto parlando, Roberto! No, 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 facciamo un esposto per cambiare il DJ! No, no, Roberto, Roberto, poi lei è del sindacato proletario dei lavoratori della scuola lì, si occupi di quello. Allora, mi dica qual è il problema, già che noi ne stiamo facendo parlare... Il problema è che la radio è occupata da persone come lei, che non ci lasciano parlare, noi compagni di Radio Popolare vogliamo poter essere liberi di parlare, non che ci occupate la frequenza che state facendo i vostri porci corpi! Roberto, allora adesso la rimandiamo in regia e le diamo noi il numero di Radio Popolare, visto che sbaglia, guardi, facciamo addirittura così, dai! Perché non è Radio Popolare questa? No, non è Radio Popolare, è Cristal Radio, grazie mille, Roberto, sentiamo adesso... Ah, Cristal Radio, compagni di Cristal Radio, uniamoci nel mondo, uniamoci, compagni, la rivoluzione e alle forze! Grazie, grazie Roberto!